Sei assessori nella squadra del presidente Marco Marsilio e un imperativo mettersi subito al lavoro, in realtà Marsilio ha già detto che sono al lavoro informalmente, per la regione Abruzzo. C'è innanzitutto l'assessore esterno con deleghe a lavoro e formazione, che è Piero Fiorretti, coordinatore provinciale della Lega di Teramo, braccio destro del deputato Bella Chioma. La sua nomina però ha lasciato un po' di amaro in bocca ai grandi esclusi Pietro Quaresimale ed Emiliano Di Matteo, che ambivano ad un posto. Poi c'è Nicoletta Veri, assessore alla sanità. Nicoletta Veri torna in regione, in realtà dopo essere stata presidente della quinta commissione sanità nella nonna legislatura. C'è Emanuele Imprudente, Aquilano Doc, che lascia il posto in comune per essere ora assessore ad agricoltura ed ambiente. C'è poi un altro assessore leghista, il chietino Nunzio Campitelli, che ha la delega all'urbanistica, una delle deleghe più importanti. Uno che ormai è di casa in regione è l'assessore Mauro Febbo, che sarà assessore alle attività produttive, alla cultura e al turismo. Il sottosegretario di giunta invece è Umberto D'Annuntis, sindaco di Corropoli. E poi c'è un altro aquilano, Guido Liris, che avrà la delega al bilancio, ma non solo, si occuperà anche di sport, impianti sportivi e altre deleghe. Non è stato difficile formare questa squadra, ha detto il presidente Marsilio. Tra l'altro le deleghe non sono intoccabili, lui si è tenuto ad esempio la ricostruzione, ha detto, ma nulla toglie che anche altri assessori possano dare il loro importante contributo. Messe da parte dunque le polemiche con azione politica di Zelli, Marsilio è chiaro, azione politica che è un consigliere eletto, Roberto Sant'Angelo, è nella maggioranza, a Zelli preferisco non rispondere, ha detto.